L'importanza della virtù della fortezza la si deduce dall'impegno che bisogna mettere nell'affrontare la realtà quotidiana da parte di chi segna un cammino spirituale. Molti sono gli ostacoli che bisogna superare con coraggio se si vogliono ottenere i risultati prefissi. La vita nascosta di Gesù a Nazareth abbraccia sin dalla nascita la povertà, la mortificazione, si assoggetta all'esilio e per trent'anni ne completo nascontimento. Non il martirio di un momento, anche se atroce, ma il martirio di giorno dopo giorno vissuto nell'amore e nella umiltà. Una testimonianza che ci sprona a praticare la fortezza nelle continue circostanze della vita. Gesù, uomo forte, lavorava con le sue mani perché semplice operaio, camminava a piedi per le strade della Palestina sotto il sole infuocato e la notte si ritirava a pregare, si alzava al mattino e non si sottraeva a tenere discorsi alla folla impegnando al massimo i suoi polmoni. La virtù della fortezza risalta quando si ritira nel deserto e si impone un estenuante digiuno per affrontare la lotta contro il demonio. Nella predicazione non ha paura di contestare i farisei annunciando un regno tutto spirituale fondato sull'umiltà, sul sacrificio. Condanna gli scandali e le false interpretazioni della legge. Gesù manifesta la sua forza d'animo nell'agonia dei getsemeni, nonostante il tormento interiore che lo fa sudare sangue. Non cessa di pregare per tutti, anche per coloro che lo stanno per contannare. Rimane dignitoso e sereno al momento della cattura e nel contempo si preoccupa che i suoi discepoli siano salvi. È nel cammino doloroso a Calvario e nella sua atroce crocifissione che ci insegna a compiere la nostra offerta che dà la morte al cuore e al corpo. La fortezza per le grandi realizzazioni, la magnanimità, è la grandezza d'animo e il carattere indicato per intraprendere iniziative per la gloria di Dio e a favore del prossimo. La sua amplificazione si manifesta in tutti i settori, religiosi, commerciali, culturali. Se c'è amore e c'è amore vero verso Dio e verso i fratelli, si è capace anche di smuovere montagne. È un'esagerazione, ma i miracoli si compiono così. La munificenza è la virtù, in modo particolare dei ricchi, che possono impiegare meglio le loro ricchezze per i beni della società. Opere d'arte, costruzione di chiese, di ospedali, di scuole. Tutti possiamo partecipare allo sviluppo dell'ambiente, se non altro con l'entusiasmo, eliminando difficoltà e incoraggiando gli operatori. Padre Pio non era ricco e ha realizzato lo sviluppo della zona facendo fiorire il deserto. Non è che tutti gli battessero le mani, anzi la pubblica opinione rimaneva contro, criticando e sparlando, riferendosi a Padre Pia e ai suoi collaboratori si diceva e li si chiamava pazzi megalomeni. Oggi quella zona ha alberghi, strade, scuole e un grande ospedale di interesse internazionale. Da dove sono giunti tanti soldi? Dalla bontà dei poveri e dei ricchi, dall'amore per i fratelli. Oggi, alle piaghe di sempre, si sono aggiunte le piaghe moderne, i drogate, le ragazze madri, la lotta al cancro, complesse per la gioventù, mancanze di posta di lavoro. È un nostro e vostro campo aperto a tutte le attività, a tutti i cuori e a tutte le borse. Grazie.